Signor Siraco, ma è vero che l'acqua è inquietta? Cioè questa notizia nasce da un equivoco che si può spiegare così, l'acna ha intenzione probabilmente di realizzare un muro di contenimento per proteggersi all'interno, non per proteggere l'esterno, per proteggersi all'interno in quanto ci sono delle infiltrazioni di acqua dall'esterno verso l'interno, per cui l'acna dice può darsi che io abbia bisogno di realizzare una protezione per evitare che acqua dall'esterno mi venga all'interno. Tutto questo è stato interpretato come fuoriuscita di liquami dall'interno dell'acna verso l'esterno, quindi è un equivoco di fondo sostanzialmente.